Lo stabilimento della Fiat Chrysler Automobiles di Melfi apre le porte per la prima volta a 70 ingegneri lucani. Una visita durata oltre tre ore nel corso della quale gli ospiti hanno potuto vedere da vicino la più grande realtà industriale presente in Basilicata ed in particolare le nuove linee produttive che stanno per partorire la prima vettura del nuovo gruppo nato dall'integrazione di Torino e Detroit. Le linee di produzione sono delle linee assolutamente innovative dove forse l'elemento che maggiormente ci ha colpito è l'aspetto dello studio ergonomico cioè il tentativo di ridurre al minimo l'affaticamento del lavoratore quindi un'attenzione particolarmente mirata al dipendente. L'iniziativa che rientra nell'ambito delle attività di aggiornamento professionale organizzate dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza e rivolte ai propri iscritti ha rappresentato un importante momento di confronto tra i professionisti lucani e l'azienda automobilistica. Immaginare che attraverso la collaborazione col mondo della produzione si possano individuare dei percorsi sia di studio sia di specializzazione post laurea che possano favorire maggiormente l'occupazione dei nostri laureati lucani credo che sia il miglior auspicio a vale di questa visita.